Green Economy, energie alternative puntare al fotovoltaico, ovvero energia pulita. Buongiorno, ben arrivati alla nostra trasmissione, la nostra trasmissione ormai quotidiana e parleremo proprio di questo argomento. Venerdì ci dedicheremo invece ai problemi del nucleare, quest'oggi restiamo belli puliti. Ma, e ci sono dei ma, perché il nostro fotovoltaico, che si è rappresentato come una risorsa importantissima dal punto di vista economico per muovere l'economia, per muovere il mercato del lavoro, per offrire delle opportunità importantissime a tanti giovani e non solo di impiego e che aveva costituito anche un'ottima alternativa alle energie classiche per il riscaldamento, per produrre energia per privati, ma non soltanto, è stato bruscamente frenato. Cosa sta succedendo? Che cosa è successo? Effettivamente ci sono dei messaggi che a volte non sono del tutto chiari. Proprio per darvi chiarezza e certezza noi abbiamo due esperti, ve li presento subito. Ben arrivato per quel che riguarda il settore impiantisti, il presidente regionale installatore di impianti, Daniele Parisotto. Grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Viene peraltro da Verona, quindi ringraziamo di averci dedicato del tempo. Ben arrivato anche come rappresentante della categoria imprenditoriale dell'area padovana, ma non solo perché a livello regionale ve ne sono moltissimi, Sergio Benetello, imprenditore del settore fotovoltaico. Grazie anche a lei di essere qui con noi. Non ha fatto molta strada perché è nella zona, ma questo anche è spiegato dal fatto che il bacino padovano è il primo a livello nazionale per indotto di aziende che si sono dedicate a quest'ambito produttivo, vero? Sì, direi certamente sì. La vostra poi è un'azienda storica. Sì, noi siamo partiti in tempi non sospetti quando di fotovoltaico non ancora si parlava. Ecco, allora cerchiamo un po' di spiegare, direi di cominciare bene a capire la situazione. Che cosa è successo col decreto Romani? Ma sostanzialmente come stava andando poco prima che intervenisse? Dopo sentiremo anche Sergio Benetello, perché poi è andato direttamente a Roma, ha parlato, ha potuto interagire direttamente con dei responsabili politici e vedremo se riusciamo anche a fare un collegamento con la regione del Veneto. Sì, allora il mondo del fotovoltaico è nato, come diceva Benetello, con della formazione, con delle uscite anche verso l'estero, verso quei paesi che erano già inseriti molto bene nell'ambito del fotovoltaico e con delle imprese che avevano cercato di svilupparsi proprio in questo settore. Attualmente nella nostra regione, il mondo del fotovoltaico, vede impegnato circa 9.000 addetti, 9.000 aziende che producono un indotto abbastanza importante. Sono numeri abbastanza elevati, nello specifico che seguono il settore parliamo di circa 3.000 aziende e con gli addetti e tutto l'indotto una 10-12.000 persone. Sono tantissime, è un mondo variegato, è un mondo complicato, fatto di aziende, di persone, di strutture che lavorano in un settore in cui si sta credendo molto, in cui si sta investendo molto e i numeri parlano chiaro. Diciamo che a livello generale su tutto il territorio nazionale, nel 2010 ci sono stati circa 4 milioni di impianti installati e circa 170 milioni di euro incentivati. Queste cifre dovrebbero corrispondere a quelli dati ufficialmente dal sito del GSE. Ecco, tra l'altro c'è una distinzione a livello un po' nazionale, nel senso che nella realtà del nord-est sono pochi parchi cosiddetti fotovoltaici. Ce ne sono, uno all'inauguratore, se non sbaglio di recente, alla provincia di Treviso, proprio alle porte di Treviso, ma sono comunque contingentati, non sono così estesi. Quindi viene dato sottospazio anche all'agricoltura. Mentre nel sud Italia ve ne sono veramente tanti. Lì l'investimento è più pesante, anche da parte di aziende del nord-est. È chiaro che in territori più felici dal punto di vista dell'irraggiamento luminoso hanno fatto degli investimenti maggiori, perché chiaramente nelle regioni del sud Italia l'irraggiamento è molto più elevato, per cui la resa di un impianto a parità di potenza installata è molto maggiore. Qua nel nostro territorio invece si predilige di più l'installazione sulla microdiffusione degli impianti, con impianti medio-piccoli. Parliamo dell'autosostenibilità sostanzialmente come filiera di installazione. Parliamo dell'autosostenibilità delle aziende e delle abitazioni. E questo credo che sposi perfettamente quello che era il principio iniziale della legge sugli incentivi del fotovoltaico. Quello di rendere autosostenibile il sistema dell'energia a livello nazionale. Poi chiaramente, laddove ci sono stati territori da poter, passatemi il termine, sfruttare in maniera corretta, e là ci sono stati fatti dei parchi fotovoltaici, sono stati fatti investimenti molto importanti e sono stati fatti proprio degli impianti giganteschi per poter produrre energia. Ecco, un'altra cosa che è comunque particolare e interessante. Ci sono altre realtà, altri paesi, quindi non solo l'Italia, che hanno puntato su questo aspetto sul fotovoltaico. E alcuni studiosi, economisti, dicono sì, ma altrove non ci sono stati incentivi così forti. Dottor Benetello, lei poi è stata a Friburgo, ha tratto anche ispirazione, ha portato moltissimi personaggi, nonché anche, se non sbaglio, il sindaco di Friburgo, qui in Italia, conosce la nostra realtà. Com'è nata l'Infriburgo a Friburgo? C'è stata un'incentivazione, c'è stata un qualche cosa, c'è stata la leva motivazionale, oppure no? Siamo solo noi in Italia che abbiamo bisogno sempre dell'incentivo dello Stato che sia presente. Beh, diciamo, la domanda come è nata a Friburgo è molto importante, perché a Friburgo si era proposto, ancora 30 anni fa, di fare il nucleare, di fare una centrale nucleare proprio a Friburgo. Quello che sta succedendo un po' da noi, no? Esatto. E la popolazione è in sorta, dicendo no, noi non vogliamo una centrale nucleare, e si proponevano tramite i verdi, che allora erano agli albori all'inizio delle loro performance, di sfruttare tutte le energie possibili che ci fossero a disposizione. Ma non è stata solo una valutazione verbale, hanno iniziato realmente a comportarsi come tale, a provare col geotermico, col fotovoltaico, col solare termico, eccetera. Il fotovoltaico è quello che ha avuto più successo, perché, nonostante che hanno un'insolazione 30% inferiore alla nostra, avevano una resa economica sufficientemente valida. A quel punto il governo e il comune stesso hanno cominciato a mettere degli incentivi per facilitare questo, e sono diventata la città europea più avanzata tecnologicamente. Oggi è una cittadina che non è più solo a livello commerciale, a livello turistico, perché tutto il mondo, dai giapponesi ai cinesi agli indiani, vanno a visitare i loro impianti per carpire i segreti di come funziona e per portare... Ecco, pertanto voglio dire, tutto questo ha messo in moto anche un meccanismo di sviluppo. Lo sviluppo che stavamo facendo anche noi qui in Italia, perché non a livello turistico, perché noi ne abbiamo bisogno, abbiamo beni culturali e visivi talmente belli che non hanno bisogno del fotovoltaico, ma purtroppo abbiamo attirato la speculazione invece. La speculazione perché il nostro incentivo era il più alto d'Europa. Ecco, ma secondo lei, oggettivamente, dopo ovvio che è a vantaggio degli imprenditori, è a vantaggio dei privati, ma perché si arriva sempre a questo? Perché eravamo troppo fermi ancora lì? Perché non partiva? La preoccupazione era quella di non partire, perché col protocollo di Chiotto avevamo firmato il famoso 20-20 di incentivi di valutazione di energie rinnovabili e diminuzione di CO2 in atmosfera. Tutto questo ha messo in moto da parte del governo la preoccupazione di non arrivarci, pur di dire non pagheremo eventuali sanzioni alla comunità, ma paghiamo gli incentivi, ci conviene, facciamo lavorare i nostri addetti, le nostre strutture, le nostre aziende. Ha avuto successo relativo, in quanto la maggior parte è stata sfruttata da imprese estere, finanziarie, che sono venute a investire nel Sud Italia perché l'insolazione è ancora maggiore. E quindi hanno dato anche un po' di spiro. E di conseguenza portano a casa un utile che va dal 12 al 15% netto anno sull'investimento, perché non ci sono altre tipologie di investimenti. che noi puntiamo molto sui siti industriali, perché i siti industriali sono i più votati, sono quelli che vanno a ridurre i costi energetici della propria azienda e di conseguenza diventano... Quindi vuol dire i classici capannoni sul tetto dei capannoni, sostanzialmente questo. Esatto, diventano più competitivi nel loro prodotto perché hanno minore spese. Pertanto, ecco, questo è il sito che noi abbiamo sempre curato e continuiamo a prediligere come formazione e come incentivo da dare nei confronti di queste aziende. Ecco, a fronte di una diminuzione effettiva di questo incentivo, dopo vedremo come stanno realmente le cose, come si è ripetizzato? Diminuiamolo, portiamo ora a livelli normali, si bloccherebbe questo sistema, secondo lei, in un momento comunque vero, un po' di crisi in cui il privato, comunque l'azienda... Il periodo non è tra i più felici dal punto di vista economico, c'è questa crisi che sta forse lasciando un po' il passo però la riduzione di per sé è stata vista da un punto di vista abbastanza così freddo nel senso che viene a mancare questa sorta di aspettativa nei confronti del governo su quelli che sono gli investimenti fatti a media e lunga scadenza perché non dimentichiamo che gente, installatori e aziende che hanno fatto formazione, hanno fatto investimenti su strumentazione, hanno fatto investimenti su come ristrutturare le proprie aziende proprio per poter far fronte a questo nuovo sistema, a questo nuovo filone che stava andando, molto importante, questa riduzione o questa mancata chiarezza sugli incentivi porta a stagnare un settore che effettivamente stava andando... Stava andando, era un bel volare. Allora io direi, devo interrompere perché siamo in pubblicità, riflettiamo su questi aspetti ma fate anche le vostre osservazioni, quanti di voi temono di vedere compromesso il proprio investimento, quanti hanno avuto dei problemi con le banche, c'è qualcuno che ha da segnalare qualche problematica, sia può essere imprenditore che anche privato, potete scriverci un messaggio 345 33 41 171 oppure telefonarci, pronotate la telefonata allo 049 80 777 53, pochi secondi dopo la pubblicità. Allora, rieccoci qua, stiamo parlando di fotovoltaico, partecipate anche voi, lo sottolineo perché un momento anche significativo può essere importante avere informazioni. Allora, che cosa è successo sostanzialmente? Avevamo questi incentivi, c'era questa possibilità quindi di usufruire di questo bonus, chiamiamolo così, energia, che aiutava l'investimento, anzi l'investimento a questo punto non andava a costare perché la banca finanziava il privato, corretto? Sì, è corretto e diciamo che l'idea dell'investimento poteva essere vista sotto due punti di vista, con un ammortamento, da punto di vista economico, con un ammortamento breve quando un investitore lo fa con i fondi propri e un ammortamento più lungo nel tempo quando chiaramente interviene la banca a sostenere tutti i costi dell'investimento. Però in buona sostanza l'investimento con fondi propri fino al termine dell'anno scorso aveva un rientro pari a 8-9 anni massimo e chiaramente con l'intervento della finanziaria o della banca l'investimento si spostava come ritorno economico intorno ai 12-13 anni. Si aveva ancora un margine di tempo necessario per poter avere un'idea di guadagno su quello che era il 100, fatto 100, quello che era l'investimento. E' chiaro che venendo a mancare questi presupposti sul conto energia, sull'incentivo del conto energia, o questa ancora mancanza di chiarezza, porta gli investitori su altre spiagge, su altri metodi di investire i propri soldi. Di conseguenza tutto un settore viene a essere carente delle opere da eseguire. Certo. Questo poteva in certo qual modo anche rientrare, ma anche nel discorso del piano casa. a questo punto c'è l'ampliamento dell'immobile del 20%, purché ci fossero anche dei più interventi di carattere energetico. Esatto, l'osservazione è molto corretta e di fatto il piano casa che non è decolato come doveva decolare, perché non è stato lanciato in maniera corretta, è stato, non lo so neanche che termine poter usare, perché non è stato presentato correttamente, diciamo solo così. Allora, il punto è uno, che nel piano casa, se io facevo riduzione di consumo energetico, parliamo anche di consumo energetico, perché è la prima base per poi fare le energie rinnovabili, e mettevo i pannelli fotovoltaici, solare termici o geotermici, potevo avvalermi di un supplemento di cubatura a volte pari al 20-30%, in certi comuni l'hanno portato a 50%, altri 35%, quando il minimo fisso del piano casa senza energie rinnovabili o fonti alternative è del 20%, cioè il piano casa prevede in ogni caso un alzamento di cubatura del 20% se io non uso queste tecnologie rinnovabili. Con queste lo portavo molto di più, e questo ha dato un po' di impulso, ma non lo ha dato sufficiente per quello che poteva prevedere di mettere in moto anche il meccanismo dell'indilizia, perché l'indilizia oggi è in crisi e non abbiamo possibilità di nuove megastrutture, abbiamo solo la possibilità di ristrutturazioni. Oggi il nostro lavoro principale deve essere nell'indilizia quello delle ristrutturazioni, e le ristrutturazioni possono essere contemplate nel piano casa. Mi auguro che nell'ultimo periodo la Regione Veneto sta valutando la possibilità di prorogare anche il piano casa, che ci sia questa possibilità e che ci sia un chiarimento più conforme per poter accedere realmente nelle tecnologie corrette. Perché poi, prima giustamente, il Presidente aveva parlato anche di formazione, ed è un altro aspetto importante, formare le persone che siano competenti. Cosa ci si trova? Che col piano casa i tecnici dei vari comuni davano una loro interpretazione più estensiva, più restrittiva, di quel che era contenuto nel famoso piano casa. Al che ti trovi comuni che agiscono in un modo, altri in un altro, cittadini in mezzo. E questo è la mancanza proprio di formazione, di avere una legislazione base che sia trasversale per tutte quante le province, per tutte quante le regioni. E credo che il tema che diceva Benetello, il tema della riqualificazione energetica nel suo complesso di un edificio, perché non dimentichiamoci che il nostro patrimonio, il nostro bene, casa, è quello che poi ci sta alla fine più a cuore, la riqualificazione energetica di un edificio sarà il lavoro dell'immediato futuro, perché cubature nuove difficilmente se le possono realizzare, specie in centri o con problematiche di vincoli ambientali o quant'altro. Per cui riqualificare un edificio dal punto di vista termico, dal punto di vista energetico, nel suo complesso, è la strategia del futuro per la produttività e per il mondo del lavoro. Comunque risulta difficile farlo se non ci sono degli aiuti di qualche tipo. Dobbiamo mettere le basi per una normativa chiara e trasversale, perché se faccio un'impresa, fa un intervento nella provincia, parlo della mia di Verona, e dopo deve andare a fare un intervento nella provincia limitrofa di Bantova o dall'altra parte di Vicenza, ci possiamo trovare con due o tre tipologie di normative diverse. Di formità impressionanti. E diventa quanto mai impossibile a lavorare in un mondo... Si, si, no, ma di fatti questo è uno dei balzellis per cui la gente capisce poco, i tecnici ancora meno, perché giustamente vada comune a comune, perché il legislatore ha lasciato facoltà alle commissioni comunali di interpretare tutto questo e di dare la normativa. Pertanto capiamo bene che non è possibile... cioè è stato, come dire, snaturato da quello che era un piano nazionale. Ecco. Allora, però comunque, il fotovoltaico era partito. Era partito alla grande, c'erano delle aziende che stavano crescendo, anche di nuovi... cioè di imprenditori riconvertiti che acquisivano personale, lasciato a casa. Insomma, era un momento di grande fermento, un indotto anche importantissimo di controterzisti, no? che ci lavoravano. Certo, ma io direi... io non sarei estremamente preoccupato, nel senso che a breve avremo il nuovo conto energia, perché questo lo devono fare. Lei ha avuto sentore a Roma che... Sì, io ho parlato anche con... onorevoli, eh? Tutti dicono con i vari personaggi politici che si stanno muovendo per ricomporre questa frattura, perché di questo si è trattato. Cioè, l'uscita di aver fermato in corsa un qualcosa che aveva già una sua... un suo punto di partenza, ma che era stato già legiferato dal governo stesso, che avevano fatto il conto per il 2011 con le previsioni di tariffe e tutto. Finiziarie anche, no? Sì, questo ha messo in crisi gli istituti bancari che dovevano finanziare, che hanno fermato il tutto, hanno chiuso i cordoni della borsa. Gli imprenditori che si sono trovati spiazzati perché non sanno più in quanto tempo rientrano. Gli installatori che non possono ovviamente fare altro che aspettare tempi migliori. pertanto voglio dire, è stata... Però oggi si sta lavorando per predisporre il nuovo conto energia. Nuovo conto energia che non avrà più limitazioni nella quantità dei megawatt da installare, ma che si proporà per avere una media europea. La media europea oggi naviga intorno a 0,30 centesimi. Per chi lo va prodotto. Pertanto direi che potrebbe ancora andare bene. Faremo dei sforzi comuni. I produttori cercheranno di ridurre il loro margine di guadagno. Senza toccare la qualità. Esatto. Ebbè, questo è d'obbligo perché il materiale che mettiamo sui tetti o in ogni caso dei capannoni o delle case deve rimanere minimo 30 anni perché di questo si tratta. Pertanto il materiale deve essere di estrema qualità. E là dobbiamo appunto valutare i costi relativi alla qualità ma alla durata perché se tagliamo la qualità andiamo a ridurre la durata dell'impianto stesso. Pertanto non è. Ma tenteremo in tutti i modi di far sì che ci sia questa riduzione di costi per alleggerire la differenza che c'è nell'incentivo. Ecco, in modo che i conti non saranno più quelli del 2010 ovviamente ma si attesteranno in qualcosa che può essere ancora molto utile. Certo. Nel frattempo perché io immagino appunto la positività di Sergio Benetello come imprenditore perché altrimenti uno si scava già la fossa non può essere tipico un po' di imprenditore. Però le categorie coinvolte dalla CNA agli artigiani con fartigianato e anche le categorie imprenditoriali sono allarmate sono preoccupate. Ci sono aziende di dimensioni veramente importanti che si sono trovate esposte economicamente che si sono trovate un netto no da parte dei finanziamenti delle banche. Le banche sono tutte le prime che tac immediatamente non ci rimettiamo un euro perché le banche fanno così e hanno chiuso subito le loro porte. Non tanto dall'aspetto delle imprese installatrici nei confronti delle finanziarie ma quanto di chi vuole investire perché ricordiamoci di una cosa importante che gli installatori sia grosse aziende che le piccole aziende ma soprattutto anche le micro aziende che poi sono quelle che alla fine lavorano sullo specifico sono tra l'altro i primi interlocutori con chi ha un'idea di fare qualcosa in questo settore per cui cominciano a chiedere cominciano a chiedere ma com'è come funziona quanto si guadagna la parte tecnica e di conseguenza se a questa figura dell'installatore che è il primo tramite con l'investitore mancano quelle formazioni quelle basi necessarie per dare chiarezza all'investitore qua comincia a cadere un po' tutto quanto l'impaicatura di questo mondo ecco questo è forse la parte essenziale che bisogna che lo Stato ci dia maggior trasparenza e durata dei decreti ministeriali per far sì che poi al momento che vengono recepiti da chi deve trasmetterli poi all'investitore finale possa trasmetterli e dare concretezza e serenità su un investimento che deve fare questo personaggio che deve investire su questo tema assolutamente si può ipotizzare Sergio Benetello di far fronte a tutto questo anche senza le banche cioè guardando la peggiore delle ipotesi perché poi il decreto romani non è che nasce da una disattenzione o così superficialità c'è un po' un intento di avvantaggiare l'ambito nucleare o energie gestite a livelli più alti rispetto a quelle sì beh direi che questo non è più come quando il decreto romani è uscito perché sono cambiati i senari mondiali col nucleare pertanto direi che stanno rivedendo tutte queste operazioni qua ma io ritengo che le banche si rimetteranno sia pur lentamente perché sappiamo bene la chiusura è immediata ma la ripresa è molto lenta si rimetteranno in moto sia pur lentamente dal momento che avremo la certezza degli incentivi perché la banca mi fa cosa mi guarda il conto economico per primo cioè se mi rientra in dieci anni mi fa un mutuo o un prestito chilografario come vogliamo per 12-13 se mi rientra in 15 me lo deve fare in 20 perché deve avere un margine sufficiente di scambio alternativo cioè noi facciamo la cessione di credito della produzione tramite il GSE e di conseguenza la banca si mette subito con le spalle al coperto dal fatto che sa che in quei 8 anni ci sarà una differenza di 6 mesi un anno al massimo rientra il resto se lo tiene come margine di sicurezza pertanto voglio dire la fattibilità secondo me rimane è che la rimessa in moto di questo meccanismo non è così semplice ecco perché spiegano un po' bene a chi non l'ha ben compreso diciamo che il motto dominante fino a ieri sostanzialmente era quello fai questo investimento paghi zero cioè si autopaga come funzionava il meccanismo che è stato inceppato allora la funzionalità di questo elemento o strumento era quello che l'incentivo previsto nel pagamento della mia produzione era tale che mi permetteva di pagare la rata annua o mensile a seconda del prestito che mi facevano allora io vendevo la mia produzione prima al GSE il GSE la cedeva con lettera raccomandata al mio interlocutore banca che era quello che mi aveva prestato i soldi pertanto la banca aveva una lettera di credito di cessione di credito da parte del GSE credibile che tutta la produzione del mio impianto che veniva pagata a tot stabilito 0,45 0,44 0,40 0,36 a seconda della tipologia dell'impianto veniva ceduta direttamente a sostegno del pagamento della mia rata perfetto allora ritorniamo ancora sull'argomento nell'ultima transce della nostra trasmissione però prima un intervallo di pubblicità brevissimo mi raccomando restate con noi allora stiamo parlando sempre del fotovoltaico incentivi che vengono meno vediamo un po' Presidente di chiudere un po' questo argomento cioè però di farlo comprendere anche bene in tutti i suoi ambiti per il settore vabbè voi non rappresentate i cittadini che si vedevano comunque un'ottima opportunità perché l'avevano mai capita e si stavano anche muovendo però comunque siete coinvolti perché si parla di lavoro noi siamo dalla parte di chi propone e chi è il primo tramite nei confronti del cittadino che intende investire su questo settore e per cui la chiarezza e la trasparenza è importante perché noi ci mettiamo la faccia per garantire al cittadino che vuole investire su questo settore un certo ritorno economico per cui proponiamo degli impianti con dei costi con dei ritorni economici e soprattutto ci mettiamo la faccia laddove noi diciamo che siamo delle aziende strutturate delle aziende che hanno una certa filiera che può essere che è sostenibile e a fronte poi anche di tutto un sistema di emissione di fatture e di fiscalità molto importante per cui quindi è un'economia che si muove anche a livello fiscale e di conseguenza c'è anche un ritorno verso il governo di un'economia che ritorna sotto forma di tassazione sotto forma di IVA un emerso insomma per cui con questo con questo sistema di sprono alle incentivazioni noi sosteniamo il fatto che non vogliamo sostenere l'illusione alle tasse anzi noi vogliamo fare degli incentivi che siano corretti che siano anche in linea sosteniamo che possono essere anche in linea con quello che è lo standard europeo ma che ci siano perché su questo tema qua tutto il mondo della fiscalità ordinaria viene a lavorare in maniera corretta in maniera serena e tutto chiaramente il mondo del sommerso viene automaticamente escluso perché non è possibile fare diversamente per quanto riguarda l'installazione di questi per poi arrivare poi alle tassazioni agli incentivi e quant'altro non è possibile arrivare con tutta una filiera di mondo del sommerso certo Sergio Benetello invece per quel che riguarda le aziende a questo punto come la mettiamo per quanto riguarda tanti lavoratori perché alcuni si sono visti messi anche in mobilità tra l'altro sì beh diciamo che molte aziende sono in difficoltà perché oggi si sono fermati gli impianti che erano come dire in avvio non sono fermi quelli che erano in fase di chiusura perché quelli oramai vanno con il vecchio conto quel conto 2011 la parte peggiore è quella dei nuovi impianti che non sono ancora partiti e che aspettano gli incentivi faccio presente un'altra cosa che il fotovoltaico oltre avere le caratteristiche di non inquinamento andiamo a ridurre il famoso CO2 in atmosfera che è per così dire la parte più importante inquinante del nostro pianeta e lo riduciamo in maniera sensibile qui ci paragoniamo al nucleare però noi non abbiamo scorie esatto senza le scorie a differenza del nucleare che poi pur essendo un'energia pulita finché funziona quando ha qualche guasto quando devo stoccare le scorie mi diventa un problema mentre il nostro il fotovoltaico è tutto riciclabile ecco anche il silicio i pannelli di silicio ci sono aziende che stanno già producendo pannelli di seconda generazione vanno a prelevare pannelli che hanno 20-30 anni di installazione in Germania o altri stati li riciclano e li fanno pannelli di seconda generazione a minor costo ovviamente ecco questo cosa vuol dire ma se anche volessimo demolirli e come dire andarli a recuperare abbiamo il vetro che è riciclabile l'alluminio idem il silicio che mi diventa sabbia e di conseguenza non ho materiali inquinanti questo è molto importante io avrò anche un recupero dal riciclo di questi materiali alla fine della vita del pannello fotovoltaico ma comunque se ci fossero dei cittadini degli imprenditori che a prescindere dall'incentivo dal bonus eccetera mettiamola nella peggiore dell'ipotesi ormai dobbiamo essere tristemente realizzati e volessero ugualmente investire nel fotovoltaico perché ci credono perché comunque uno dice vabbè in ogni caso non dipendo da un gas che costa sempre di più attenzione perché purtroppo i prezzi e poi ci troviamo in situazione internazionale ambigua resta sempre un investimento fattibile certamente perché abbiamo l'incognita del nostro prezzo energetico l'incognita che lo vediamo tutti non solo le guerre ma anche i continui rialzi dei costi del petrolio per primo eccetera pertanto è una filiera che non andrà mai a diminuire c'è un periodo più lungo però per ammortizzare i costi però arriveremo se è previsto fra due o tre anni che arriveremo che avremo la stessa valutazione economica di essere allacciati all'Ene allacciandosi noi cioè non avremo un maggior costo avremo lo stesso costo energetico che sosteniamo oggi in Boletta pur avendo un impianto proprio potrei avere un impianto ad isola che mi viene a costare 30 mila euro con 30 mila euro io avrò per 30 anni l'energia gratuita il che vuol dire che se mettessi in conto il costo della Boletta spenderei non solo quello che ho speso ma probabilmente di più di quanto ho speso energeticamente per fare un impianto a conforto di quanto dice il venetello non siamo legati solo al fatto del costo dell'energia ma anche ai famosi rubinetti che ci possono chiudere quando vogliono perché se i gasdotti cominciano attraversando paesi un po' particolari con governi un po' instabili cominciano a chiudere i famosi rubinetti lì ci troviamo veramente nella difficoltà perché non c'è poi soldo che possa pagare quella cosa che manca che non arriva perché hanno chiuso senza contare appunto questo particolare che non è banale ma che l'autosostenibilità che era all'inizio della filiera di tutto questo tema del fotovoltaico era poi l'elemento principale per dire diamo un'impronta da qua ai prossimi 20 anni di poter essere autosostenibili con il nostro sistema energetico che era la filosofia iniziale di tutto questo sarebbe stato il punto d'arrivo ecco quello sarebbe stato l'ambizioso punto di arrivo e comunque diciamo che possiamo ritenerci ancora nell'ambito dei giochi perché io dico confrontiamoci sempre con l'Europa perché tanto dopo l'Europa ci arriva ci arriva addosso nel senso che con le direttive con i ricepimenti vari siamo costretti ad adattarci cosa succede nel resto d'Europa comunque queste energie alternative si stanno muovendo noi siamo sempre un po' alla ricorsa addirittura in America lei ha visto Obama in America esatto quanto sta spingendo pur avendo tutte le altre fonti ma non fanno incentivi di questo tipo hanno altri sistemi hanno i certificati verdi sotto altri profili cioè il fotovoltaico è sempre sostenuto da qualche tipologia di vario tipo per esempio in Romania ci sono solo i certificati verdi in Polonia lo stesso non hanno incentivi di costo di come dire di pagamento della produzione ma hanno dei certificati verdi che vanno a qualificare quell'impianto che non produce appunto gas sera o il famoso CO2 in atmosfera eccetera e di conseguenza vengono premiati con i certificati diciamo è indispensabile fino a che abbiamo questi costi troveremo delle soluzioni perché il progresso continua infatti bisognerebbe trovare anche soluzioni troveremo delle fonti energetiche a minor costo perché oggi sono ridotte ridotte quasi all'osso perché si parla di cifre abbastanza ridotte rispetto abbiamo ridotto del 30 40 50% rispetto ai primi anni di installazione pertanto non è banale vuol dire che se proseguiamo di questo passo magari riducendo anche le superfici come stiamo facendo allora abbiamo un costo complessivo ridotto di manodopera di materiali di sostegno di pannelli fotovoltaici eccetera e possiamo sperare di arrivare in tempi quando non avremo più l'incentivo che diventino ulteriormente interessanti perché vanno a compensare il costo energetico reale la tecnologia fa passi da gigante facciamo sempre il paragone con i primi telefonini e quelli di ultima generazione per cui le nanotecnologie ci vengono a conforto proprio di questo tema qua insomma ecco tra l'altro si parlava anche tempo addietro di integrazione fotovoltaico geotermico il geotermico non aveva avuto sostegni particolari eccetera però poteva potrebbe costituire ugualmente una alternativa diciamo che il geotermico essendo un'energia che non si vede c'è una telefonata un attimo pronto? si pronto? buongiorno signora siamo proprio in chiusura prego io guardo ogni giorno la vostra trasmissione parlate sempre del nucleare io non sono contenta per il nucleare non stiamo parlando del nucleare stiamo parlando del fotovoltaico che è il contrario ma comunque voglio dire che si possono usare anche le mondizie che si può portare all'estero in Germania che con le mondizie fanno la corrente e tutto ci sono tante cose che si possono fare in Italia i pannelli tante cose e infatti stiamo parlando proprio di questo senza fare il nucleare cosa serve il nucleare solo per morire come muoiono l'anno che è scoppiata la centrale assolutamente signora Ragione infatti noi oggi proprio stiamo parlando di questo un'alternativa possibile grazie signora dove chiama io vedo che qua a Venezia adesso non mi ricordo hanno fatto e bruciano le mondizie però serve solo per la zona di Venezia non serve soprattutto per la zona di Dolo Milano ho capito ecco certo quindi sono delle alternative possibili ne parleremo anche di questo signora grazie del suo intervento purtroppo devo lasciarla perché siamo in chiusura grazie richiami ancora comunque così possiamo parlarne in modo per approfondito grazie signora quindi possibilità del geotermico in chiusura proprio sì sì il geotermico non ha ancora avuto la sua performance esaltante che dovrebbe avere perché è meno visibile del pannello fotovoltaico di conseguenza ma è un'alternativa interessante però è un'alternativa che abbinata al fotovoltaico mi dà una resa economica ancora maggiore ecco perfetto quindi questa è un'altra opportunità grazie a voi di averci seguito grazie anche alla signora di essere intervenuta purtroppo alla fine ma comunque parleremo ancora di queste tematiche e cercheremo anche di darvi degli ulteriori sviluppi e aggiornamenti al riguardo grazie ai nostri ospiti e naturalmente appuntamento domani 12 e 40 fino alle 13 e 25 vi lascio la linea ai nostri TG grazie a tutti grazie a tutti